Ciao a tutti amici di TecnoAndroid, fra le mie mani Sony Xperia XZS. Può un dispositivo compatto essere molto potente? Sì, sono contentissima perché secondo me in questo device Sony è riuscita a mischiare alla perfezione un dispositivo piccolo, ben costruito, ma con Snapdragon 820 all'interno. Infatti parlando di specifiche di questo terminale, prima di vederlo un attimo in dettaglio, qui abbiamo processore Snapdragon, il quad core celeberrimo Snapdragon 820, 4 GB di memoria RAM e 32,64 GB di memoria interna espandibili tramite microSD. Una fotocamera d'eccezione, un sensore da 19 megapixel abilitato anche al MotionEye con la tecnologia MotionEye e di conseguenza è in grado di girare slow motion a 960 frame per secondo, 720p di risoluzione, quindi risoluzione HD. Un dispositivo interessante quindi per diversi aspetti, non solo per l'hardware, anche per il comparto fotografico, come del resto tutti i Sony. Un display da 5,2 pollici, questo qui con risoluzione Full HD, è un pannello IPS con tecnologia Triluminos e X-Reality, quindi ci siamo anche in questo. Mi piace particolarmente la costruzione perché abbandoniamo quel discorso del vetro per ritornare al policarbonato che mi è sempre piaciuto tanto di Sony. Andando a guardare in dettaglio questo dispositivo, sul primo lato c'è ovviamente il tastino dedicato alla fotocamera, bilancieri del volume, tasto accensione e spegnimento, ci spostiamo sul lato superiore, troviamo il secondo microfono per la riduzione dei disturbi in conversazione, jack audio da 3,5 mm, spostandoci ancora invece il vano per la SIM, per andare a introdurre la single SIM, la nano SIM e l'espansione di memoria. In basso poi microfono principale e USB di tipo C. Per quanto riguarda lo speaker audio è messo sul posteriore, sul frontale, in realtà sono due perché garantiscono audio stereo, quindi si fanno a coronare il display insieme a fotocamera frontale e il LED per le notifiche. Il posteriore, come anticipato, un posteriore molto interessante perché si abbandona il vetro, posteriore con fotocamera da 19 megapixel, flash LED messo a fuoco a fase, purtroppo non c'è lo stabilizzatore ottico ma soltanto elettronico, promette comunque prestazioni interessanti che ovviamente andremo a valutare sul campo. Per quello che riguarda invece il sistema operativo, su questo dispositivo abbiamo in uscita, avremo già Android Nougat, ovviamente lasciato semi-stock come Sony è abituata a fare, un device quindi che potrebbe rivelarsi interessante, soprattutto per gli amanti dei terminali potenti ma piccolini, vedremo come si comporterà ovviamente in recensione.